Come è un periodo in cui creiamo tanto e facciamo un pelino più fatica a fare gol, anche se comunque stiamo mantenendo una media di due gol a partita, penso, ed è fondamentale che vuol dire che giochiamo bene e creiamo tanto se abbiamo così tanti marcatori, quindi per una squadra come la nostra è importante. Di base Teo è un po' più alto, io un po' più basso, però comunque alla fase di finalizzazione io voglio sempre arrivarci. Oggi ho fatto gol da lontano, un bel gol, sono contento e il mister è certo che ci chiede di andare in avanti perché è una squadra che vuole portare sempre a casa la vittoria, quindi serviamo tutti davanti. Un po' maneggiati sicuramente perché vogliono sempre vincere, però abbiamo tante assenze, il campo era molto pesante, molto difficile, una partita un po' complicata, siamo passati due volte in svantaggio, quindi siamo stati bravi comunque a non molare fino alla fine, è una cosa che ci sta contraddistinguendo per la partita, per questo periodo, dobbiamo cavalcare l'onda positiva che stiamo continuando ad avere.